La prima volta che ho visto Nainggolan, l'ho incontrato casualmente a un centro commerciale di Roma Io vi giuro, ho la foto, lui aveva il cappello, non tipo il tuo, il berretto Il berretto, oh regà, sul berretto c'aveva scritto Dio P***o Non è vero C'ho la foto Andando a Trigoria, un giorno stavamo facendo dei contenuti con i calcioli della Roma E arriva Nainggolan Oh regà, mi so comprato una macchina, bellissima, dovete vedere Eh Florenzi, te lo si, ma va veloce Eh sì sì, guarda questa è potentissima, venite, ci ha portato C'era pure io a vedere la sua nuova macchina che era, porca miseria, una GTR Beh, torniamo tutti a casa Oh, la sera esce l'articolo, Nainggolan è schiancato No, vabbè, è durata tipo da Natale a Santo Stefano Era un po' troppo commentato con la sua nuova GTR